La sanità pubblica si difende, all'Aquila sono scesi in campo sindacati di medici e tante associazioni sigle che hanno aderito in un sit-in dinanzi alla direzione generale della ASL. I problemi all'ASL dell'Aquila sono diversi, l'ultimo in ordine di tempo è stato quello dell'attacco hacker che ha letteralmente paralizzato il sistema e ancora non si può dire che sia tornata alla normalità a pieno, almeno così affermano gli utenti. Su questa vicenda e molti continuano a dire che c'è stata poca comunicazione. Le difficoltà sono ancora enormi, non sappiamo di preciso di che si tratta perché in realtà non c'è stata molta comunicazione, quindi in realtà restiamo tutti quanti un dandino perplessi su questo, non sappiamo perché è successa la cosa, cosa è successo, cosa si sta facendo, quindi le difficoltà ci sono. Quello che devo dire è che nonostante i cittadini abbiano molto disagio, dobbiamo dire che però i operatori sanitari stanno lavorando tantissimo, vuoi per le difficoltà oggettive che ci sono, ma anche perché sono rimasti in sottorganico, perché non si stanno facendo assunzioni per sostituire i medici in pensione e di conseguenza si trovano in serie difficoltà, sono rimasti in pochissimi, stanno facendo turni massacranti. All'Aquila c'è inoltre il problema dei nuclei di cura primari che non hanno più personale dopo i pensionamenti e rischiano la chiusura. Sono passati due mesi ma una soluzione non c'è. Il direttore generale controlla di bilanci ha affermato che i soldi ci sono, quindi che problemi in questo senso non c'erano più. Sotto il profilo politico lui è sempre stato d'accordo, francamente io non riesco a capire a questo punto, sono passati due mesi, non riesco a capire quale possa essere la difficoltà. Mentre invece in questo momento sarebbe essenziale mantenere le associazioni mediche che sono dei gruppi organizzati perché potrebbero dare una risposta nella riduzione delle liste d'attesa. Abbiamo anche firmato a novembre un protocollo per la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso che sgraverebbe anche il pronto soccorso che è un altro reparto che sta veramente sotto pressione. Ma anche quello non ha avuto nessun seguito. Quindi ci troviamo in una situazione in cui da parte nostra massima disponibilità ma vediamo che al di là di grosse dichiarazioni da parte dell'AS non c'è nulla. Quindi è chiaro che noi continueremo la lotta perché riteniamo che una buona organizzazione territoriale può fornire diagnostica di primo livello e ridurre le liste d'attesa e anche gli accessi al pronto soccorso.